Buongiorno dalla redazione del Tg della mobilità. Nuove mobilitazioni a Roma contro la guerra in Ucraina. Questo pomeriggio sono previste manifestazioni a Piazza Madonna di Loreto nell'area dei Fori Imperiali e poi a Piazza San Giovanni Bosco, Piazza dei Consoli, in Via Flavio Stilicone e a Largo Spartaco. Possibili effetti sulla viabilità con rallentamenti della circolazione e gli aggiornamenti in tempo reale si potranno seguire anche sul sito romamobilita.it. Le altre notizie domani all'Olimpico. È in programma il derby Roma-Lazio. Fischio d'inizio alle 18 ma già dalle 15 si apriranno i cancelli dell'impianto sportivo. Sono attesi 50 mila spettatori. La capienza dello stadio è ora tornata al 75%. Serrate le misure di sicurezza con la suddivisione delle tifoserie fuori dallo stadio e mille agenti impegnati sul territorio. Sulla versante della viabilità questa sera scatteranno le prime rimozioni dei veicoli in sosta nell'area intorno allo stadio che domani si potrà raggiungere anche con 15 linee del trasporto pubblico. L'elenco in dettaglio sempre sul sito romamobilita.it.